Ed eccoci qua nuovamente dalla fiera dell'editoria Editha Fiera, fiera nazionale dell'editoria italiana e quest'oggi vi presento due nuovi amici davvero stupendi, ecco qui Ciao, ciao E sei entrata nel posto giusto però, nel posto più verde della mia scena a Poccagna Assolutamente, abbiamo anche qui lei che si chiama che è musicologa, teoricamente, ma siamo tutti molto teoricamente cara, non c'è problema Allora, come si chiama questo luogo assolutamente meraviglioso che adesso vi faremo vedere Si chiama la botanica macramè La botanica macramè e andiamo a fare un giro in questo luogo meraviglioso dedicato al verde Vieni, vieni, ecco Come si chiamano queste meraviglie? Questa è una monstera, che è una pianta che generalmente si arrampicherebbe su altre piante ma ovviamente non possiamo farla arrampicare per uccidere tutte le piante che abbiamo qua per poi piantare interni, quelle sono edere, quelli dei ficus benjamin, un altro ficus benjamin e poi abbiamo diverse altre piante come le palme fantastico potos che tutti avete in casa e che tutti vorreste che è una pianta indistruttibile delle calanque, delle begonie che sono belli, secondo me Che meravigliose begonie queste palme che fanno molto tropici anche se purtroppo di tropici non abbiamo assolutamente niente una sterlizia non fiorita ma super bellissima Eccola qui, bellissima, sembra quasi una calla E' più o meno Sembra vero? In qualche modo, sì, al portamento è quello E poi svariate altre piante con nomi strani altri tipi di ficus La pianta dei soldi La pianta dei soldi La pianta dei soldi La pilea Dobbiamo rimbasare Lingue di suocera Lingue di suocera Attenzione Ficus, ficus E varie altre varietà di piante Luogo meraviglioso dove veramente ti senti in pace con te stesso Abbiamo anche delle bellissime Orchidee Orchidee, guardate che meraviglia Palenopsis Come se piovesse Magnifico E poi il nostro laboratorio Esatto Dove invece poi lavorare Tutte le nostre piantine Esatto Ci dedichiamo e facciamo crescere Ecco Carissima, gentilissima E salutiamo il nostro pubblico Ringraziamo la nostra nuova amica Per questo meraviglioso momento verde Meraviglioso Il verde veramente salverà il mondo Un pianeta da salvare, proteggere, amare Quindi incrociamo le dita Lo speriamo E quindi vi aspettiamo a Fiera Edita A Cascina Cuncagna Che oltre alla Fiera Edita Dove espongono tantissimi stendisti A livello nazionale Abbiamo anche un momento bellissimo Nel verde Grazie a tutti Alla prossima Ciao